Si sapranno il prossimo 6 aprile a Perugia i vincitori del premio nazionale Ercole Oleario. Il premio, nato nel 1993, giunto quest'anno alla 32esima edizione, è il concorso più prestigioso nel settore dell'olio extravergine di oliva di qualità italiano. È un'occasione importante di confronto per le imprese, ma anche di promozione per gli oli e per i territori. Infatti intorno all'Ercole ci sono una serie di iniziative che non riguardano esclusivamente il premio, quindi la proclamazione del vincitore, ma attività di promozione e sensibilizzazione che vanno dal turismo dell'olio alla promozione dei prodotti. Siamo veramente felici di premiare oggi, o meglio di individuare, i soggetti che potrebbero poi vincere un premio, questo non lo sappiamo, nella fase finale che si terrà a Perugia, però siamo veramente felici di conoscere queste imprese, di consegnargli il premio e di scambiare con loro quel minimo di collaborazione che ci permette di lavorare meglio. Il prodotto abruzzese è cresciuto enormemente negli ultimi anni, in qualità? Assolutamente sì. Questo è testimoniato appunto dal fatto, non solo del premio, ma anche dalle quadri di mercato che progressivamente i frantoiani abruzzesi e i produttori abruzzesi hanno. Quest'anno sono cinque le etichette abruzzesi premiate che accedono alla fase conclusiva, in programma, come già detto, a Perugia il prossimo 6 aprile. Sì, certamente. Io ringrazio il Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria e il suo Segretario Generale che oggi è presente qui per questa conferenza. Abbiamo avuto notevole un gruppo folto di aziende abruzzese produttori di olio che hanno partecipato. Oggi sì, verranno reso note i primi classificati. È un evento per me molto importante perché l'olio è un prodotto di nicchia, un prodotto di eccellenza che noi in Abruzzo potremmo vantare sicuramente dei primati. Spero che questa manifestazione la renderemo anche a livello regionale e dall'anno prossimo spero di poter fare una selezione con un campionato, se è corretto dirlo, regionale. Grazie.